allora buonasera a tutti oggi è sempre l'undici di febbraio sabato e sono vestito a questa maniera leggermente pesante perché mi stavo per guardare un film sono circa le 11 e 30 all'11 e 40 di sera chiaramente e niente mi stavo per accendere la televisione per guardarmi un film o qualcosa quando sento questo rumore e questo tic e tio qui penso si senta forse si dovrebbe sentire ma comunque ci ho avvicinato la fotocamera se dovrebbe sentire il cellulare se dovrebbe sentire il tic 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 e questo simpatico tic tic è il gas che è finito ora va bene che c'ho due bombole e da 10 kg l'una quindi a voglia il problema non è cambiare la bombola il problema che fuori è un freddo della madonna e sono quattro gradi sono sulla spiaggia col camper chiaramente perché già proprio sulla spiaggia il problema è che sono quattro gradi e gli anche parecchio umido e io il freddo no aspetta è secco e secco perché se era umido gli era un po meglio perché magari uno lo sentiva meno il freddo invece è freddo parecchio e io il freddo l'odio e infatti per questo motivo che mi sono scafandrato a questa maniera mi sono messo anche la torcia per vedere se non vedo nulla per cambiare la bombola chiaramente mi tocca scafandrarmi a questa maniera ora stop un attimo perché vado fuori capito bravo tipo io voglio cambiare la bombola testa attaccato osti mi raccomando io mentre vado ad attaccare a cambiare la bombola fuori quattro gradi un freddo tremendo che poi magari c'è chi mi dice sì ma quattro gradi non è freddo cioè freddo sì ma c'è di peggio cioè secondo dove vai c'è meno 10 sì ma andateci voi e meno 10 io a quattro gradi già sto male meno 10 poi per me quattro gradi equivale a meno 40 allora ho appena aperto la porta ma se si vede qualcosa si vede una sega quando le metto chiede perché se no io qua c'è un altro fulgone lo vedo ora ora andiamo ad aprire questa simpatia botolando c'è le bombole ecco aperta ora mi metterò a cambiarla perché ho freddo della madonna perché ho freddo della madonna e a me il freddo mi dà noia allora ho messa ora l'apro perché se chiaramente non l'apro ecco aperta ora rimetto quest'altra bastarda il posto che è vuota maledetta te perché ha questo ghiaccio poteva finire di giorno allora bombola cambiata ora si ritorna molto congelati o meglio per me e vuol dire essere congelato perché ora appena tanto chiudiamo qui perché ho freddo te non ti ha freddo eh il bradico da combattimento non ha freddo ci diventa lui comunque la bombola è stata cambiata ora fisso sto troiaio qui sopra ecco la bombola è stata cambiata quindi ora siamo al calduccio ora io però mi devo sfogliare perché c'ho un giubbotto secondo giubbotto lo so magari ad alcuni di voi vi faccio un po schifo secondo cioè per via di come mi scafandro io quando esco il freddo che per ripeto per me 4 gradi che equivalgono a meno 40 però io sono parecchio freddoloso questo bene che il caldo per me potrebbero essere 40 gradi come l'estate scorsa sia d'estate che d'inverno sia di giorno che di notte per me inverno non esisterebbe mai e poi mai quindi a parte vabbè volevo fare un video maglietta dell'ops fa veramente schifo comunque volevo fare un video io stasera possibilmente volevo fare un video io stasera possibilmente stavo dicendo senza dover andare a cambiare la bombola fuori perché non è caldo per niente siamo sulla spiaggia e è freddo a 30 metri da qui 40 esagero cioè in mare quindi anche non c'è niente che ripara e volevo fare un video stasera oltre a questo vabbè questo io non più è uno più fa parte vabbè è un po più lungo volevo fare un video stasera perché stavo pensando cioè sto pensando di cambiare nome al canale dato che il van furgo insomma ducato non c'è più perché chiaramente l'ho venduto a giugno si giugno scorso no luglio giugno ma non ricordo no giugno giugno scorso e quindi il nome trip videos from my van avendo un motorhome mi sembra ci incastri poco e niente e quindi c'ho già una mezza idea su che nome mettere al canale cioè il canale rimane questo chiaramente video non è che le cancello assolutamente non ci penso neanche però cambierò il nome e c'ho già una mezza idea ora appena ho fatto stampare gli adesivi da metterli sui culone dell'aica di dietro belli grandi perché sui furgone sai c'avevo lo spazio giusto cioè c'erano i sportelli di dietro e avevamo detto saprano non è che gli era fisso ma è questo qua se che mi toccò farlo un po diciamo parecchia misura sia per la parte destra un altro che per quella sinistra che sono uguali però gli ero un po' una menata mettili precisi mettili pari tutte e due insomma qui bene o male fu uno unico attacca e via e ora domani andrò più a più le misure di dietro e larghezza altezza più o meno guarderò un po' e poi domani lunedì chiamerò il mio amico suo al lamporecchio e mi fa gli adesivi il logografe suo lamporecchio chiamo lui gli mando una brutta copia fatta ai computer lì per lì gli dico guarda fammela di questa misura di questo disegno insomma faccio un po' e poi voglio far stampare una cinquantina o sessanta forse anche un centinaio non lo so volevo fare degli adesivi tondi così più o meno 8 10 cm di diametro e ci volevo mettere praticamente la foto del motorhome di muso o di lato o a 45 gradi dipende ora secondo me mi piglia faccio scrivere il nome del canale giro giro ai bordi insomma al bordo e attaccarla un po' un qua e là darla a qualcuno magari o lo so se la piccola dietro al camper così mi fa anche pubblicità gratis attaccarla a qualche palo che ne so a un'area di sosta così spargerlo un po' in giro e niente volevo fare questa cosa infatti il video che sto facendo a bombola bastarda a parte è riferito proprio a questo motivo cioè che cambierò a breve il nome del canale ora però stop un attimo perché voglio accendere la stufa poi mi voglio mettere anche questa mi fa schifo sta maglia l'OBS l'ha regalato un mio amico ma anche se se la teneva era uguale anzi era meglio stop un attimo oh se Dio vuole cambiamo la bombola ho preso un po' di freddo si però ora se Dio vuole aia accidente a lui ai mobili non era proprio accidenti indirizzata ai mobili ma diciamo accidente ai mobili e niente nulla e praticamente il video ripeto è basato questo video proprio sul cambio del nome del canale ora però io ho questo lampadario un testa che mi riflette dato la capigliatura che mi ritrovo mi sembra adesso un catarinfrangente ma comunque il video è basato proprio su questo su questo fatto che cambierò a brevissimo il nome del canale proprio perché trip videos from my banner ripeto come avendo un motorhome ci incastra poco e niente quindi lo cambierò e appena vabbè appena l'ho cambiato ovviamente farò un nuovo video nel quale dico il nuovo nome del canale che verrà ripeto attaccato abbastanza grande dietro al culone del camperone dell'aicone e più sulla destra perché sulla sinistra già c'è la finestra parata di bagno poi sotto la finestra parata di bagno c'è il cane cioè c'è l'adesivo di doberman di macisti poi in mezzo c'è un paio di manovre ho chiappato un albero in ogni singola manovra ho chiappato due alberi poi ho chiappato un paio della luce perché se è diventato un ferro di cavallo vabbè ma quello io lo uso come standy abiti come standino il vicerito non lo sopporto quindi lo uso per quello ma a parte ciò quindi stavo dicendo l'adesivo lo metterò più diciamo spostato si centrale destra più o meno diciamo via più o meno dove c'è all'altezza più o meno in alto c'è la scritta laica e più o meno lo metterò occhi e croce lì vabbè comunque me ne frega nulla lo metto dove fare dove mi pare di infilarcelo c'ero un filo dove mi pare di metterlo lo metto e l'oppicero lì niente ora io mi bevo la mia pepsi prima di guardarmi un firme perché io ieri notte me lo stavo guardando un firme poi chiaramente mi sono abbioccato come una bestia dato quel giorno prima la notte prima insomma la mattina prima mi ero svegliato inspiegabilmente alle cinque e un quarto c'è inspiegabilmente il motivo lo so qual è non lo dico perché sennò qualcuno che mi segue mi manda porca miseria ho da capire ancora come abbia fatto a partire una porca miseria e invece una porca un'altra cosa ma comunque perché mi cascavo il cellulare che mi sei la ventusina mi sei staccata da quel cacchio di mobile e cosa stavo dicendo non me lo ricordo più accidente ad alzheimer niente è schifo il calzino non lo voglio e praticamente nulla no e dicevo poi appena avrò ricercato l'adgesivo del nuovo il nuovo nome del canale vabbè un altro video chiaramente con il nome a parte vabbè lo ripeterò poi comunque chi mi segue tuttora e appena avrò fatto il video nuovo col nome nuovo chiaramente cambierò il nome anche al canale cioè chi mi segue ora magari chi non vedrà il video col nome nuovo sul canale magari quando si vede arrivare le notifiche sul cellulare o su computer no che mi segue e gli appare il nome nuovo dicendo che poi magari uno per curiosità va a vedere diceva si ha cambiato nome vabbè ma a parte questo comunque farò il video con insomma con l'adesivo nuovo col nome nuovo spiegherò anche magari il semplice motivo della scelta del nome che penso ci voglia poca immaginazione c'è poca intelligenza al capitolo non è una cosa complessa non è che ho fatto un nome strano fatto un nome abbastanza abbastanza normale io normale non sono persona normale io fortunatamente so di non esserdo e me ne vanto però il nome del video del canale l'ho voluto fare più o meno una cosa abbastanza normale che anche un crescito riesce a comprendere tutto il rispetto per i cresciti a me mi cambano tantissimo però faccio per fare un esempio e niente e nulla vabbè farò il video per questa cosa poi ripeto e farò fare anche una cinquantina o sessanta o ducento o tremila non lo so di adesivi tondi con la foto del camper di muso ripeto o di lato cartonato non lo so come la farò un bianco e nero non lo so o bianco e nero no però devo fare uno sfondo un po particolare per questo adesivi tondi pancino sta buono che già c'è una specie di guerra chimica fra stomaco e viscere mie mie vabbè sono vomitate niente scrive niente però che ora devo scegliere cosa fare qualche disegno che sfondo fare nel negli adesivi tondi voglio fare col camper ripeto però voglio fare voglio fare uno sfondo un po particolare c'era farò forse una foto e poi magari lo modifico col computer lo sfondo qualcosa o ci metterò degli alberi o in mare non lo so una scimmia e vola non lo so qualsiasi cosa devo trovare un'idea un attimo per realizzare questi scudetti diciamo gli stati disegni via diciamo così magari se qualcuno c'ha qualche consiglio da darmi su come su cosa ci potrei non lo so mettere come sfondo ho qualche idea sono un po indeciso però non so se ci metterò non lo so uno sfondo dove non so un tramonto ci metterò un bosco ci metterò una scimmia e volare in corsa dal rinoceronte impazzito non lo so e comunque va beh se qualcuno ha qualche consiglio da darmi su cosa su come lo potrei fare come potrei fare far fare tutta questa serie di scudetti adesivi chiamiamoli così mi può scrivere nei commenti e mi dice guarda se sarebbe bellino tu lo facessi così no così no lo fare perché fa vomitare cioè ditele le ossa non è un problema un consiglio si accetta niente ora io stacco mi guardo i pirati dei caraivi dato che ieri notte mi sono abbioccato come una bestia perché ho dormito poco e niente in questi giorni ho dormito davvero poco quindi ieri notte mi sono cadaverizzato sul letto ma come mi sono addormentato ieri come mi sono svegliato stamattina stessa posizione sembrava adesso morto e ora però mi vorrei guardare un film infatti ora io stacco e mi metterò una parruccarasta perché ho questa chiorpa in questo faro ma se io fa così più bellino rosse e verdi e niente da vabbè se vi sono piaciuti i miei video vabbè lo dico sempre poi ve lo dico lo stesso un'altra volta me ne frega nulla se vi sono piaciuti i miei video iscrivetevi al mio canale mettete un like se avete dei commenti da fare fateli pure se avete domande fatele se avete consigli dateli se avete presa di culo fatele pure è uguale non lo so comunque se ripeto se vi sono piaciuti i miei video mettete un like se non vi sono piaciuti mettete un like lo stesso no dai scherzo comunque se vi sono piaciuti fate un po che vi fa ecco così già meglio niente io a questi punti dormire cioè dormirei mi guarderà un film poi con calma dormo vero che si chiama questo questo costoso degli ero made in si chiama ed ed degli ero made in vabbè io stacco buonanotte a tutti